Tutto? O io? No. Ma che è nato l'amico? Ma che sono il fuoco? Com'è? Che dicevi tutto? No, che dicevi tutto. Ah, tutto. Ora che c'è, sta pensando. Questo di chi sei? Questo di chi sei? Questo di chi sei? Chi è? Ossai qua. Dove ci mettono? Lo sapevo. Ah. Ah, come me ne hanno. Ecco, lo pensano. Ma non è una fossa comune? No, 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 non è fossa comune. Ma se che tu non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Che ho mangiato non ne possano però. Sì. Che è tutto il pranzo gratis, sì, gratissimo. E poi c'è, non c'è il mio franzo gratis. Ma c'è il mio franzo gratis, allora c'è questo. E poi c'è questo, non c'è questo, non c'è questo. È tutto il mio franzo gratis. Questo, perché c'è questo, questo, che c'era, lì vicino. Dalla montagna? Sì, sì. Vuoi dire? C'era, sì, sì. Magazzini di... Lì vicino mio padre c'aveva la cava di Tufo. E io ci andavo a portare delle volte il pane e passavo di qua davanti al cimitero, mi fermavo a cancello e guardavo. E poi mi mangiavo, ci siamo qua a Mazzara d'acito, l'erba questa che fa i fiori gialli, ma era dolce. Era dolce? Sì. Ma si mangiano queste fiori? Sì, sì, sono comestibili. Ah, sono comestibili. Sì, sì, però ho un supo delle volte anche a te. E le panutte dell'erba di Mario, della zucchera, non si vengono. Della marva. Della marva. Mangiare.